Allora ok 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 ci siamo bentornati in questa nuova live quindi non video Oggi approfondiamo non niente riguardo le criptovalute ragazzi Mi dispiace lo so che eravate qua per quello ma oggi leggiamo la posta del cuore Langiamo i vostri messaggi d'amore e li diamo in chat e li lasciamo su youtube per tutti quanti Insomma è una serata d'amore quindi Mi raccomando ragazzi non non mandatemi domande su su coin perché non risponderemo alle domande di coin No sto scherzando torniamo non facciamo la posta del cuore questa sera ma andiamo a vedere come sta andando il mercato Ok quindi mi raccomando le live come le intendo io sono sempre delle dei modi per poterci scambiare delle opinioni Quindi mi raccomando fate domande perché non deve essere un monologo mio perché non serve a nulla Altrimenti vi faccio il video da 10 minuti ed è più utile quindi mi raccomando dateci dentro Anche questa sera un buon tè per farci compagnia Allora 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 Ah sempre mi dimentico se la state guardando da youtube mi raccomando un bel mi piace sotto questo contenuto Mi aiutate tantissimo con l'algoritmo abbiamo superato non so più neanche quanti siamo 3.600 utenti veramente tanti 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 la community sta crescendo in maniera incredibile Quindi direi che è più che ottimo il tutto Quindi quindi andiamo ora a vedere che cosa andiamo a vedere un pochino quello che è il mercato Cosa attenderci cosa aspettarci Allora Bitcoin e poi passiamo alle vostre domande Come è messo bitcoin come è messo bitcoin Ragazzi ve lo chiederei a voi come è messo bitcoin perché oggi è una giornata odierna Vedete già un po' di gente Oddio cosa succede Andiamo Torniamo indietro Mani nei capelli Stiamo dampando Scoppierà tutto Quando esco Quando faccio Allora Voglio mettere un po' di chiarezza anche su queste cose qua Allora quando uscire potete sempre seguire quella che è la strategia del video che trovate su youtube Dell'exit strategy Quella va bene per tutto Va bene anche per passare su bitcoin Quindi mi raccomando ragazzi Non 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 Rimanete solamente con l'idea di uscire in fiat No Se voi volete passare a bitcoin anche quella è un'ottima strategia che potete utilizzare Quindi Quindi va benissimo Bitcoin In cosa sta facendo Ora io mi sopposto al grafico sul 4 ore Perché alcuni mi dicono Eh ma tu fai sempre il grafico orario Ma non guardi il 4 ore Non guardi il daily Ma io mi trovo bene con l'orario Però anche sul 4 ore Volevo farvi vedere che Forse è ancora più chiaro No? Il movimento Il movimento di bitcoin è un movimento rialzista Cioè Quello che stiamo avendo È una continuazione a rialzo Del prezzo di bitcoin Questa struttura qua è ovviamente una struttura bullish Ok? Perché va a consolidare A fare dei minimi crescenti Vedete che possiamo tranquillamente Tracciare una trendline di questo tipo qua E quindi vedete che i minimi sono crescenti Eh Ho lasciato sempre questa retta Qua sotto Perché Oddio cosa è successo? Ragazzi non Non so cosa sia Ah ragazzi un'iscrizione Ah ok Ah grazie a tutti quelli che si iscrivono Ovviamente al canale Ragazzi io sono uno Che non è che è su twitch sempre Quindi Per me Ho sentito sto rumore Ho detto Cosa sta succedendo Oh vabbè E Torniamo a noi Che è meglio E Praticamente Tutto questo che vedete qui È Bullish Però questa trendline Che vi dico Che vi dicevo prima Appunto L'ho lasciata Perché Perché Non ci vieta Di andare a fare Un retest Ok? Tranquillamente Allora Voi avete seguito Schiccera L'analisi Che abbiamo fatto Con Luca Di The Crypto Gateway È stato a proposito Grazie perché eravate veramente tanti E ci siamo divertiti un sacco Infatti Credo che sia una delle sue live Che è durata di più Perché È durata oltre Non so Un'ora e venti Quindi Siamo andati lunghissimi E Qual è Qual è il discorso? Il discorso È che Luca diceva appunto Che potrebbe Si potrebbe andare a ritestare Ovviamente Vedete che La mia analisi La sua È un po' diversa Perché lui ragiona Un po' diversamente da me Però alla fine I livelli sono quelli Perché vedete che Comunque Questa trendline È più o meno In corrispondenza Su quello che è Questo livello qua Di Di Old time Mai precedente Perché ovvio che poi Ricordatevi Cioè I ritest Non sono perfetti Cioè possiamo tranquillamente Andare a bucare Tornare su Avere delle shadow Molto ampie Ok Soprattutto perché Ricordatevi che Più saliamo E più Abbiamo Una Tipologia Di movimento Che comporta Anche volatilità Quindi Non dimenticiamoci Della volatilità Ok Ricordiamoci sempre Dove siamo partiti E se abbiamo dei dubbi Quello che dobbiamo fare È fare questo Weekly Torniamo indietro Weekly E ci chiediamo A che punto siamo A che punto siamo È una struttura Bull O è una struttura Bear Questa è una potenziale Bull flag Sul settimanale Rotta rialzo Ok Quindi fondamentalmente Stiamo avendo continuazione Sul Anche il lato mensile Ok Che molti mi ricordo Erano spaventati Per questa candela Di Di gennaio Che aveva una shadow Molto alta Sì Tecnicamente Avere una shadow Molto alta Vi fa capire No Che tutta questa zona Qua è zona Di offerta Riassorbita Ok Però Vedete cosa è successo Il mese dopo Boom Perché Perché ricordatevi Che stiamo operando In un mercato Veramente Veramente Piccolo Ok Quindi operare In un mercato Piccolo Fa sì Che dei piccoli Movimenti Vadano A dare Delle botte Ok Clamorose Quindi Non vi preoccupate Quando vedete Queste cose Perché Sono Comunque Fanno parte Del gioco Ok Una cosa Prima di passare Le vostre domande Abbiamo la Total Ok Total market cap Questa ce la guardiamo Magari sul daily Ok Lo vedete Com'è Anzi Facciamo sempre Su l'orario A me piace L'orario ragazzi So che È brutto Per alcuni L'orario Ma secondo me È più chiaro Lo vedete Cioè È in uptrend Continuo E questa Market cap Di mercato Questo è Secondo me Sempre l'indicatore Più importante Perché Perché da qui Andate a capire La salute del mercato Massimi Crescenti Minimi Crescenti Ops Trend line Pazzesche Ok Boom 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 Cioè Qua Andiamo su Andiamo su Cioè Non c'è da aver paura Oggi Però È ovvio Che Un pochino Quello che ha sofferto È la total 2 No Quella Delle Delle alz Anche se Ma vedete Che la struttura Rimane invariata Cioè Io non vedo Segnali Di inversione Neanche sulle alz Cioè Semplicemente Stiamo andando a fare Dei touch Su queste trend line Qua E poi andiamo A recuperare Ma Per il momento Io segnali di inversione Non ne vedo Quindi Questa paura Di uscire 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 Dalle alz Personalmente Non la vedo Ma come dico Sempre Non sono consigli Finanziari Quindi Siete voi A premere Buy Siete voi A premere Sell Binance È vostro Nel mio account Quindi Mi raccomando Sempre con testa Sempre Secondo le vostre idee Non fate copy and colla Perché Perché Non perché Non dovete fare copy and colla Quello che dico io Perché È ovvio che Quello che dico io È quello che succederà No Quindi Sto scherzando Ovviamente Ma perché Io ho un grado di rischio Voi ne avete un altro Io ho un portafoglio Voi ne avete un altro Quindi Dovete Sempre Sempre Avere la testa Il focus Sul vostro obiettivo Quindi non fatevi prendere Dalla foam Se vi siete impostati Un prezzo Ora Non è che Se vi siete Faccio un esempio Stupido Polkadot Me lo vedete A 30 dollari Ok Se andiamo a 30 dollari Rispettate il vostro obiettivo Non è che Adesso che siamo andati a 30 No Dobbiamo andare a 100 dollari Cioè Rispettate il vostro obiettivo Poi Sono d'accordo con voi Le analisi vanno Vanno riviste Time by time Tick by tick Ok Perché ovviamente Il mercato qua si evolve ogni ora Quindi Cioè Le cose cambiano spesso Però Ricordatevi di fare un take profit Ok Se voi avete un'idea Che è a 30 dollari È il vostro obiettivo Volete continuare con la posizione Benissimo Però fatevi un piccolo take profit In modo tale che Abbiate L'infa Per andare avanti Questo direi che è più che importante Prima di passare Per andare un po' Ad altre analisi Vediamo le vostre domande Innanzitutto ringrazio tutti Quelli che si stanno iscrivendo con Prime Io ragazzi Non vi offendete Io le vedo dopo Ste cose Quindi vi ringrazio dopo Però vi ringrazio Comunque Allora Vediamo un po' Vediamo un po' Si sente piano Beh io ragazzi Avevo anche aumentato Il microfono un pochino Ora magari Avendo riavviato Streamlabs Per le dirette Magari è un po' Un po' sceso Shortando band adesso Eccoci ci siamo Beh Voglio farvi vedere Ecco bravi Mi avete dato uno spunto di band Allora band Ok Gente con le mani nei capelli Oggi Ho visto un sacco Guardate sul daily Quello che vi ho detto Shadow Pazzesche Volatilità pazzesca Attenzione a non cadere In questi tranelli Perché sono dei riassorbimenti Molto veloci Guardate cosa è successo Ok Guardate sull'orario Vedete Boom boom E poi ve lo riassorbe A V-Shape Recovery Quindi mi raccomando Guardate sempre i volumi Anche di questi movimenti Guardate Ecco Forse questo è ancora più formativo Perché può aiutarvi Di più Sì Sì ok Allora Guardate quando abbiamo fatto questi breakout Ok Su band Boom Boom Ok Guardate i volumi I volumi Erano ottimi Perché? Perché c'erano veramente ordini di buy Nello weekend Non è che ci sono tutti questi ordini Ok Guardate tutto questo dump Che gente che Era impanicata Oddio Andiamo Torniamo a 10 dollari No Ok L'abbiamo fatto con dei volumi ridicoli Ok Abbiamo recuperato in altrettanto Modo V-Shape Con dei volumi altrettanto bassi Quindi State attenti ai volumi Perché non ce ne sono così tanti E quindi fanno questi movimenti A volte che sembrano Chissà che E poi alla fine bastano Poco Per essere recuperati Quindi mi raccomando Ragazzi Non fatevi fregare Dal mercato Vediamo un po' Vediamo un po' Cosa ne pensi di HBAR Ragazzi HBAR Non è un progetto in realtà Che sto seguendo più di tanto Vediamolo un attimo Insieme magari Faccio un'analisi Ecco sì Allora Adora Adesso vi dico un po' Quello che penso Anche sulle Alts Le alts stanno crescendo In maniera incredibile Quindi qua ormai Il discorso è Quando sale tutto È anche facile Andare a fare A fare gain Però Ricordatevi che Io ho vissuto un po' Tutte queste fasi Sono in questo settore Qua dal 2014 Quindi come vanno su È molto spesso È successo che Sono andate anche giù Poi ovvio che qua Secondo me Un po' il mindset Un po' Il mercato È cambiato tanto Ok Su questo Sono più che d'accordo Però Vedete Da 3 centesimi Siete passati a 12 Nel giro Di un mesetto Ok Quello che un po' Ha fatto parecchie coin Estrema attenzione Perché Lo dicevo anche Nella live con Luca È meglio farsi le ossa Cioè Entrare in questo mercato Oggi In queste condizioni Dove Tu compri qualcosa E qualcosa schizza E non c'è più Neanche Neanche un minimo Di studio dietro Cioè perché Ne prendete una a caso Ora Senza Ovviamente Modo di dire Ci sono anche Coin che non volano Però Avete una probabilità Che prendete una coin E vi vada su To the moon State attenti Cercate sempre Studiare i fondamentali Che coin è Perché quando dampano Se voi non sapete Cosa avete comprato Ok Non sapete neanche Perché stia dampando Non avete un'idea Non avete Un'idea chiara Ok Qua dentro Succede che poi Vi fate molto molto male Perché Perché iniziate A vedere A fare soldi E poi iniziano a scendere Altrettanto rapidamente E andate in panico E andate in panico Quindi iniziate A tirare dentro Le emotività Iniziate a Non avere fondamentali Quindi mi raccomando Ok Questo è molto importante Però Hbar Ragazzi Non c'è niente da dire Insomma Lo suo movimento L'ha fatto Anche abbastanza sano Perché poi È consolidato È tornato a fare Un'altra leg up Quindi Da un certo punto di vista Va anche bene Vediamo un po' Vediamo un po' Allora No Si bloccava il video Ma credo di Credo di sì Riff Riff Ti amo Quintessenza È il nostro Il nostro Ambasciatore Di Riff Esatto Bitcoin Mi raccomando Non lasciatemi a casa Bitcoin Samigliano Nel caso l'alt season Dovesse finire Come vedi le posizioni Delle alz Più capitalizzate BNB Dot link Tu ne gireresti Una parte in bitcoin Poi non pensi che Non soffrano troppo Grazie e complimenti Per il canale Grazie Daniele È una domanda Molto intelligente Molto utile Ok Anche per Per i nuovi Appunto Ma allora Ragazzi Qui il discorso è uno È ovvio che Se andate a fare Dei movimenti Ok Così elevati È ovvio anche Che se non avete Una fase di consolidamento Ok Del mercato Questi movimenti Vengono riassorbiti Molto 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 Velocemente Ok Perché a me piace Tanto Vi faccio vedere Le strutture Che sta facendo Ethereum Ok Le strutture Che fa dot Perché Qui sul daily Le vedete anche Sono strutture Che creano supporti Perché prima di Sprofondare All'inferno Ok Abbiamo Abbiamo questo Cluster Qua Abbiamo Questo Cluster Qua Molto Importante Perché in corrispondenza Che del All time I Abbiamo Tutta questa Zona Qui Ok Abbiamo Le medie Mobili Che salgono E ci fanno Da supporto Ok Quindi Questo Fa sì Che in un eventuale Anche fine di All season O collassi Particolari Del mercato Di cui Ovviamente Ragazzi Ricordatevi Questo Non abbiamo Segnali In questo Momento Quindi Chi vi Dice Ah Domani Crolla Tutto Sta Sparando A caso Cioè Non ci sono Segnali Evidenti Cioè Alla sfera O alla sfera Di cristallo E alla verità In tasca Io non ce l'ho Quindi ragazzi Dovete cambiare Canale Andare da chi C'ha la sfera Di cristallo Però Io personalmente Mi baso Sui dati I dati Non mi stanno Dando questa Situazione Poi guardiamo Anche la Dominance Perché voglio Farvi vedere Una cosina Sulla Dominance Molto Intelligente Interessante Cosa Cosa Volevo dirvi Con questo Volevo dirvi Che le strutture Quando salgono E vanno Vanno Su E si creano Dietro una struttura È ovvio Che sia più Solido Quindi Anche in un collasso Dot Prima di andare Giù A chissà dove Abbiamo Un bel supportino Qui Ok Perché questa candela Qua È verde Ma Secondo me È una candela Che comunque Ci sono parecchi Ordini Abbiamo la 12 Comunque vicina Sul daily Poi abbiamo la 26 In corrispondenza Di questo supporto Qua molto importante Dopodiché abbiamo Questo qua Quindi Ragazzi Non lo vedo Tornare sicuramente A 10 dollari Ok Prima di tornare a 10 dollari Abbiamo di mezzo Un bel po' di cose Per questo Vi dico Attenzione A Anche Le coin Su cui entrate Che strutture hanno fatto Dategli sempre un'occhiata Perché comprare Un palo verticale Dove va Il palo verticale Solitamente O va To the moon E non torna mai indietro Ma secondo me Sempre To the moon And back To the moon And back Ok Quindi mi raccomando Meglio queste crescite Ok Un po' più sostenute Poi è ovvio che Su un tracollo di mercato complessivo Ragazzi Cioè c'è poco da Da dire Da fare Ok Quindi non Non ci sono Ok Particolari Particolari poi Supporti Però è ovvio che Questi supporti qui Che si creano Non sono Non sono Male Ok Vediamo un attimino Vediamo un attimino Ok Perfetto Mi chiedevano In privato Per quanto riguarda Appunto I volumi Del fine settimana Sono un po' più Un po' più bassi Perché Perché ovviamente Tanti investitori Anche professionisti Ok Che ovviamente Vanno a movimentare Parecchio Il mercato È weekend Quindi Non lavorano Ok Ricordatevi che c'è chi lo fa Come professione Il trader Il retail magari ci guarda Sabato e domenica Di più Magari Perché È in ferie Ok Non lavora Però il professionista Lo fa Dal lunedì Al venerdì Ok Magari in corrispondenza Anche dei mercati tradizionali E Vediamo un attimino Quindi Spero di averti risposto Spero di averti risposto Vediamo un po' ONX pack Sì ONX Ho visto ragazzi Sta tirando bombe Ma in realtà ONX Sapete perché Tira bombe Perché Ne ha parlato Antoine Croing Se lo pronuncio malissimo È il fondatore Di Hero Finance In una Mi pare su Ne parlavo prima con Roby E con alcuni admin E che Praticamente Lui è andato Su Su Come si chiama Clubhouse Sì Clubhouse Aveva una room Su Clubhouse Hanno parlato di parecchie cose E in più ha detto Ah ma A me piacerebbe Prendere a prestito I token comp Ave Da ONX Perché stanno per attivare Il lending Settimana prossima E quindi E quindi La gente è andata in FOMO Perché ha detto Oh mio Dio Sta parlando di ONX Finance Quindi è un'ottima considerazione E quindi È partito il settore Di ONX POMO Vi ha fatto un candellone atomico Però il progetto è valido Ok il progetto è valido Ve l'avevamo già dato Un dollaro E Trenta Un dollaro e quaranta Circa Quindi A parte il gain Comunque può avere un ottimo potenziale Perché la market cap è veramente ridotta Ma Ma Sempre con testa ragazzi ONX Finance Non è Bitcoin Non è Polka Adotto un Ethereum Ok Quindi ONX Finance Sempre con Un grado di rischio Che potete perdere tutto Perché Ricordatevelo Che non stiamo parlando di coin Chissà che Capitalizzate Quindi sono progetti molto piccoli Ampia possibilità di gain Ma altrettanto ampia possibilità di perdere tutto Quindi questo Ricordatevelo Quindi non fatemi gambler ragazzi Che mi fate arrabbiare Non voglio vedere gambler Mi raccomando Ah Poi Un'altra cosa Io non vi rispondo quando mi chiedete Ma dove Dove arriverà Domani Salirà Polkadot Oppure se dirà Bitcoin Cash Scenderà Quello Perché non lo so Cioè Vi dico cavolate Siccome non voglio scrivere nei commenti Cavolate Allora piuttosto Vi dico cosa penso di un progetto Se mi piace o no Quello ve lo posso dire Però se mi dite Se domani Il prezzo sale E arriverà a Mille dollari Entro fine mese Io non ve lo so dire Se arriverà a mille dollari Capito Quindi è solo per quello Quindi non è che non vi rispondo Perché Non voglio rispondere Quindi vi leggo tutti Però Sono quelle cose La sfera di cristallo E vi giuro Non so Non so darvi una risposta Vediamo un po' P Network Non lo conosco ragazzi Qualche parola su Bidau Bidau ragazzi Un'altra storia di Bidau Bidau Io non sono mai entrato Perché a me Non è piaciuta Quella forma Che hanno fatto loro Di Di farming Sulla loro piattaforma Che è durata una vita Ok Dove vi davano anche Un interesse buono Ma Ma era una roba Incredibile Volevo vedere Bidau Mi interessa di più Vedete Non ci sono neanche exchange Cioè Con tutta l'hype Con tutta l'enfasi Che c'è su questo progetto Almeno un Binance Non lo so Qualcosa Che vi dia Ma anche un hobby Ok Minimo Non c'è nulla I volumi sono ridicoli Ok Sui checks Sui Perché questi non sono reali ragazzi Ve lo dico Poloniex forse È reale Ok Uniswap Dai Già meglio Però Se siete dei retail Che l'operate con poco capitale Sapete benissimo Che su Uniswap Oggi Non è che sia proprio il massimo Ci da sete di più di commissione Che di Che di Che di quello che andate ad acquistare Del token Quindi Vidao Sì È un progetto Che io ragazzi Personalmente Non sto a facere Poi è ovvio qua Vedete Però è passato da un centesimo A tre centesimi Sì Un po' come tutto Ok Cioè Quindi Ricordatevi sempre Anche È per questo che io insisto tanto Sull'ecosistema Ok Cioè Vedete sempre Fuori Su cosa state operando Su che mercato Com'è il mercato Com'è la market cap Perché vi fa capire Tante cose Ok Quindi quando vedete questi per tre Lo vedete su tante coin È perché Il settore sta crescendo Poi effettivamente Se Bidao È cresciuto di un per tre Perché abbia fatto chissà che Io vi dico Secondo me Non ha fatto chissà che Gli mancano gli staggi Non è che abbia neanche Questi volumi incredibili Perché se andiamo a paragonare I volumi di Bidao Con quelli di ONX Che è un milione Contro 12 milioni Ragazzi 12 milioni Ne molti 24 ore Contro un milione E ONX Vi sto dicendo Che è un altro progetto Molto molto piccolo Quindi mi raccomando Sempre con i volumi Dateci un occhio Ok Che è importante Ho perso mille follower Per cosa Come vedi Cake Bah Cake ragazzi Cake funziona Bene Perché è una DeFi Che funziona Per quello che voi vedete Un incremento di prezzo Di Cake Perché fondamentalmente PancakeSwap Funziona Vi fa fare l'exchange Vi fa fare il liquidity provider Vi farma i suoi token Problemi attualmente Di sicurezza Non ne ha avuti Quindi non ci sia stato Nessun exploit Nessuna Nessuna perdita Particolare Quindi ovvio Una DeFi Che funziona Usabile Dalli retail Perché ancora oggi Comunque con 20 10 20 centesimi È quello che spendete Appunto In controvalore In dollaro Per fare le operazioni Quindi Anche là Vi dico Pancake Funziona Quindi Personalmente Ho un parere positivo Dot Dot L'abbiamo visto Un po' prima Non capisco Per scendere La Bitcoin Dominance E Bitcoin Sale Scende Total 2 Le alzano Scende Bitcoin Tira dietro tutto Che caos Mi dai la palla Al balzo Per farvi vedere Quella che è La Dominance Perché voi dovete sapere Che io ho la sfera Di cristallo E quindi Avendo la sfera Di cristallo Vi ho Lo sapete Chi segue i miei video Sa che io Ne ho parlato anche con Luca La 200 oraria Mi piace tanto Sulla Bitcoin Dominance E guardate un po' Cos'è successo Sua 200 oraria Oggi Ve l'evidenzio Touch perfetto Della 200 oraria Per la correzione Della Dominance Minima correzione Allora E' sempre quello Il discorso qua Quando voi andate A consolidare Ok Con la Dominance A questi livelli Qui Ok E andate a scendere E' normale Che poi Comunque Un minimo di rebound Lo avete Ma lo avete Per forza Perché andate Non potete immaginare Che cali Drasticamente Senza 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 recuperare mai Perché se lo guardate Anche sul Sul giornaliero Ok Arrivati a questi livelli Qui Circa Guardate dove siamo Tata Guardate la linea Tratteggiata Dove Quando andiamo a toccare Questi Questi supporti qua Molto forti Perché sono supporti Di quest'estate qui Ok E' ovvio che ci si può aspettare Una reazione a rialzo E ci può stare Ora Il discorso è che Io valuto la Dominance In relazione anche Alle altre cose Quindi si Un pochino le alz Tendono a perdere Però è ovvio che Comunque continuate A buttare su Sulla market car complessiva Quindi va benissimo così Però vedete come La 200 oraria Ancora una volta Ci ha fatto da resistenza Ok E continua a tenerci giù Quindi per quello che io Vi ho dato come campanello D'allarme Il superamento Da 200 Con conferma Di rottura rialzo Quindi Quello che volevo vedere Per avere un segnale Di inversione Della Dominance Era arrivare qui Fare questo Consolidare su Oppure Proprio in extremis Fare questo Arrivare qua Sfruttare la 200 Da supporto E andare su Allora Andavamo a valutare Ma Era uno scenario Che mi ipotizzavo Su una fase Proprio di dump Del mercato Secondo me Perché questi pump Ok Della Dominance Sono pump Dovuti a un cambio trend Ma semplicemente A dei momenti Di attenzione particolare Su quello che è Il discorso bitcoin Quindi per Degli annunci distruzionali Tutto quello che Sappiamo benissimo Non serve che vi ripeta io Ok Quindi Non sono variazioni Del sentiment Di mercato Ma sono variazioni Prettamente legate Allora Per quello che vi dico Sempre Non basatevi solo Su analisi tecnica Basatevi anche sulle notizie Sui fondamentali Sull'analisi on chain Perché solo così Avete Un quadro Chiaro E completo Ok Quindi la Dominance Ora si mantiene Comunque debole Comunque debole Possiamo tranquillamente Tornare in queste zone qua Per vederla forte Vorrei vedere un cambio trend Quindi magari fare un Lower eye Comparato a questo Più alto Ovviamente un lower eye E andare poi a fare Un higher eye Sulla Dominance Allora iniziamo a ragionare In altri termini In altre ottiche Ok Però io non mi faccio i film Ok Quindi io finché non vedo Delle conferme Cosa vi devo dire Che andiamo a fare il dampone Cioè se domani mi dampa il mercato È una condizione che ad oggi Ditemi dove vedete Della debolezza sul mercato Io qui non vedo debolezza Io qui vedo una trend line Sulla market cap Che continua a crescere Questo vedo Non vedo altro Sinceramente Quindi mi raccomando Ciao Emiliano Dici che band Ha testato bene il supporto Per ripartire Beh allora In che band Band Abbiamo parlato un po' prima Band sta andando Ha fatto una leg up Molto importante Si è riportato in all time Finalmente Dopo parecchio tempo E ora Sì Può andare tranquillamente Sta ritestando I vecchi all time E può rompere Rialzo Ovvio che Qua il discorso È sempre Mi raccomando Proporzionato a quello Che è il discorso Anche complessivo Di mercato Un po' vale per tutte le coin Quindi per vedere Continuazione In questi movimenti Volevo vedere Continuazione Nella flusso di capitali Continuazione Rialzo Dei movimenti È l'unico modo Che avete Per comunque Continuare a alimentare Queste coin E questi movimenti Perché ovvio Che se domani mattina Dalla market complessiva Ci spariscono 20 miliardi di dollari Ok È ovvio che Non potete aspettarvi Che band Vi vada a 25 dollari Ok Quindi mi raccomando Capite sempre Il contesto Nel quale andate a operare Dopo questa Il season Solo un escort Basta amoroso No dai Poverino Il progetto Norfinance Lo conosci? No Non lo conosco Bitcoin si sta appoggiando A Bella parabola Più triangolo ascendente Bitcoin ve l'ho fatto vedere Un po' Quello che penso Follower season Is coming Esatto Siamo in Burran Blue sky breakout Dai 200 iscritti Ci dici qualcosa Sul dump di gold Si può notare Una buona resistenza E se pensi Possa ritornare a spingere Grazie Guardiamocelo volentieri Dai i gold Io so che Ormai ci tenete Ai gold Dopo che vi fa Voi Ci tenete Alle coin Che vi fanno I per 3 E per 4 Gli altri Non ve ne frega nulla Non si è mai Cagato nessuno I gold Ora Tutti i gold Grazie i gold Madonna Ma allora Ragazzi Questo non è un dump Secondo me Anzi Si sta anche creando Un buon Un buon approccio Su questi livelli qua Secondo me C'è anche abbastanza Domanda Ok Tutta questa zona qua Lo vedete che Comunque L'abbiamo testata una volta Siamo tutti riassorbiti L'abbiamo testata una seconda Praticamente Testata Poi se abbiamo Rialzo Abbiamo ritestata Abbiamo ritestata Ci sta tenendo Quindi questi 150 dollari Psicologici Più o meno Ci stanno aiutando Ma Ragazzi Allora Su queste cose qua Quello che potete fare Secondo me È sparare un fibonacci Ok Classico E vedere cosa Cosa succede Poi lì Dipende da dove lo calcolate Io ve lo calcolerei da qua Dove vedo la vera rottura Rialzo Ok Ed è poi un movimento Più o meno unico Potete anche farlo meno Però vedete Finché vi mantenete Sopra lo 038 Ok Questa potenziale bull flag Potenzialmente Non vi sto dicendo che lo farà Ma potenzialmente Potete andare a rompere Poi rialzo nuovamente Con una fase di consolidazione Però ragazzi Fa parte del gioco Cioè quando voi andate A prendere una coin Che fa così È normale che prima o poi Consolidi Si lateralizzi Si faccia Un po' di Un po' di struttura Il problema di queste coin qua È che quando ve le prendete così Vi trovate la 12 Molto distante Perché Se vi trovate a 220 dollari La 12 La avete a 137 E quindi Se solamente dal top Vi tirate Vediamo un po' quant'è Capito Cioè avete un bel Meno 36% Dal top Per prendere la prima media mobile Quindi È ovvio che Non avete tutta questa potenza Ok Su Su questi nomi qua Cioè Quando dampano Poi non avete più potenza Di salire subito Però Però comunque La struttura Per il momento Si sta mantenendo sana Certo Quello che voglio vedere Al massimo È su i gold Una lateralizzazione Per mantenersi sopra La 038 E ripartire Quello che non vorrei Vedergli fare È questo È questo Perché allora a quel punto Ci potrebbe essere Un'inversione di trend Ok Perché andiamo a fare Un massimo Ok Che è più basso Del precedente Ok E qua Andate a perdere Ok Quello che è l'ultimo minimo Andate a fare un minimo Più piccolino Ok Quindi Diventa Diventa complesso Poi andare a recuperare Un trend Così forte Però vi ripeto Dipenderà anche tanto Dalle condizioni di mercato E Ok Tra i progetti Dei file Come collochi Mi sa che ti ha bannato Il botto Qualcosa Il nome Quindi non lo so Solo io sento Basso Tutto ok adesso Ok Perfetto Sentite bene Grazie per il prime Dorelic 77 Perfetto Allora Ciao Prima live per me Benissimo Benvenuto Volevo chiederti La tua opinione Su Polkaswap La possibilità Su Sora Di farmare PSP swap Tramite Pulse Uniswap Moons Uniswap Secondo te ne vale la pena Volevo inoltre Segnarti sicuramente Saprai già Che Polkaswap In testnet Permette di giocare Con playmoney Secondo te Possibile Nella drop Stile uniswap Una volta lanciato Il token A chi ha usato La testnet Ancora Grazie Grazie ancora Allora Io ragazzi Vi dico una cosa Vanno benissimo Tutti questi servizi Polkaswap Eccetera Ok Però Ricordatevi sempre Di non rischiare Troppo Sono protocolli Ancora Molto Molto Embrionali Ok Quindi non metteteci Tanti soldi Poi Se mi dite Ne vale la pena Io vi ripeto Se volete farvi Una rendita passiva Oggi Potete mettere Tranquillamente Sui checks A meno che non siano Chissà quanti soldi O su una DeFi Già più sviluppata Non fatevi prendere Dalle API così alte Perché le API così alte Hanno sempre dietro Un motivo Quindi mi raccomando Non cadetemi Troppo in queste cose qua Gli airdrop Se arrivano Arrivano Ma se non arrivano Gli airdrop Lasciate perdere Non andatevi a cercare Gli airdrop Vi prego Perché alla fine La più Le fiche Andate a spendere In giro A destra A sinistra Che magari Ci sono tanti protocolli Che adesso Scusate Gli airdrop Perché gli piace Hanno capito Che funziona Vi promettono Qualche airdrop Che poi non arrivo Ho sentito anche Di queste cose qua E poi ve la prendete In quel posto Quindi mi raccomando Grazie ragazzi Per i supporti Io si è svegliata Si io si è svegliata Hanno cambiato il CEO Che in realtà Fa parte dello stesso team Di prima Però vabbè Vediamo Speriamo È anche un modo Forse di dare una svolta A quel progetto Ho visto comunque Su io Dei volumi più interessanti Finalmente Cioè più interessanti Rispetto a prima Perché sapete benissimo Che io su YoV Non guardo Il 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 volume di Bilaxi Addirittura 5 centesimi Però L'avevo vista 3 centesimi Prima Infatti Siamo un candelone Infatti 3 centesimi Vabbè Ottimo Cioè Allora I volumi di Bilaxi Io non li reputo mai Chissà che veritieri I volumi I veritieri Sono sempre quelli Di Di Uniswap Ok 78 mila dollari Vi dico che c'era un periodo in cui Avevamo i volumi di Uniswap A 15 dollari Ok Quindi Direi che Si è data una svegliata Stanno lavorando meglio Però appunto Ancora Da dimostrare Tanto Ancora dimostrare Tanto Però Meglio così Bravo Emi Insieme a Cicluto Valute E a Luca Alfremei preferiti Però Hai il logo Troppo simile All'Alberto E a Cicluto Valute Ma No Non credo Ciao Con la rottura Della banda logaritmica 061 Può verificarci Un scenario simile Ad altre bull run Sul breve Grazie Il mercato è cambiato Tanto ragazzi Non basatevi troppo Sullo storico Prendetelo Come è ora Ok Come è ora È un È un mercato In crescita Che sta comunque Crescendo bene Sta crescendo Perché c'è tanta Edozione istituzionale Ma queste candele qui Come queste candele qui Sono tutte candele Che vi fanno Basta una notizia E boom La vostra analisi tecnica Basata sui cicli Di Tre anni fa Trova il tempo che trova Perché Perché Ricordatevi che Quest'anno Ecco adesso vi faccio Il momento Serve l'inquadratura Per il momento Cazziata Allora Movimento Cazziata Allora Chi vi dice Ragazzi Che Trova significatività Storica Ok In un movimento Di Chiamiamolo tanto Sette anni Ok Perché I primi tre anni Non so neanche se c'erano Neanche un mercato Bisogna vedere i volumi Erano proprio Ridere Ok Cioè Non abbiamo significatività Ok Di volumi Eccetera Ok Già oggi Oggi forse abbiamo dei volumi significativi Ok Già nel 2014 Non avevate neanche lì Chissà che Ok Chi vi dice Che un movimento Dei cicli Che sono durati Tre anni Ok Cioè Che vi dà Vi dicono Allora andata così Dovrà andare così Anche questa volta qua Vi sta raccontando Cavolate Perché Chi ha studiato Un minimo di finanza Un minimo di Calcolo di probabilità Statistica E matematica finanziaria Vi dirà Che per avere una Una minima Ok Una minima Diciamo Significatività Per trovare Delle ricorrenze Ok Vi servono serie storiche Di almeno Trenta Quaranta Cinquant'anni Ok Per potervi dire Allora Andato così Un ciclo Forse potrà andare Queste robe qui Ok Su una serie storica Così bassa Così poco significativa Con volumi che non sono Neanche chissà che cosa Soprattutto nella prima parte Ok Delle serie storiche Di bitcoin Ma anzi Ve lo voglio far vedere Ok Voi qua Su bitstamp Perché questo grafico qui È di bitstamp Torniamo Con l'inquadratura Ok Qui Ok Non avevate Chissà che Chissà che Volumi Chissà che Mercato Sviluppato Vi trovate Dei pump Clamorosi Mensili Che vi facevano Da 1100 A 200 dollari Ok Vi facevano Perché non c'erano Chissà che volumi Guardate anche che dump Perché era un mercato Che praticamente Non contava Cioè Contava nulla Ok I volumi Veramente erano bassi Ora io non so neanche se Mi fa vedere qua i volumi Ma Cioè Guardate di qui Sì forse sono veri 100 100 100 100 100mila k Ok Se andiamo Probabilmente Lo sto facendo in diretta Perché non lo so Ok Cioè È proprio Abbozzata lì Ma è una mia idea Quindi vediamo se me la conferma Volumi mensili 100mila k Arrivo qui Questo mese qui Sono 457 k 256 k Poi Attenzione Avevo preso anche un mese Abbastanza Abbastanza Carico Però vi ripeto Ci sono fuori Altre condizioni Altre situazioni Quindi Non prendete Quello che vi viene Detto Su serie così Basse Come la verità Quindi Mi raccomando Ok Io non mi baso Troppo su quei movimenti Lì Sono grafici belli Io spero che funzionino Perché ovviamente Se andiamo To the moon Sono il primo a essere felice Però mi raccomando Non dategli significatività Più di tanto Ricordatevi sempre Cosa state facendo Dove state operando E questo settore qua Basta che tira sulla cornetta O meglio Gli gira una mattina Elon Musk Iscrivere bitcoin E vi fa un candellone Da 5000 dollari Ok E la vostra analisi tecnica Va a farsi friggere Questo è importante Comprate Dogecoin La facciamo salire 10 dollari Ecco esatto Foam Inizia la live Band riparte Esatto Dai portiamo fortuna Un po' a band Buonasera Buonasera A tutti Ciao Il mercato è una bomba Anche se è senza Ma Qualche detest È ottimo Sia per consolidare Sia per togliere Qualche scarpone Parliamo di Polkadot Io temo che tanti progetti Alla fine rimarrano su Cusamo Non da mettere difficoltà a Polkadot Comunque limitandolo Tu cosa pensi? Cosa ti aspetti Un'idea generale Sul lungo periodo? Ma allora Io non credo Non credo proprio Ma non Però è una bella domanda Perché ci sta Alla fine Perché Ricordatevi che Tutti i requisiti di DOT Sono requisiti Allora il problema è uno Cusamo Non è che Cusamo Va bene Ma è una rete Che va bene Per un progetto Ancora piccolo Perché se il progetto Diventa grande Cusamo È troppo stretta E quindi deve per forza Andare su Polkadot E quindi ci porteranno Progetti che avranno Modi Importanti Di blockchain Ok I requisiti che poi Vengono richiesti Anche le auction Vanno ad asta Quindi se effettivamente Verrà offerto poco Le parachain Verranno Assegnate Al migliore offerente Però non per forza Sarà una cifra incredibile Poi è ovvio che Su Polkadot C'è tanto hype Ci sono tanti progetti Che vogliono crescere E quindi è ovvio anche che Ci aspettiamo Un po' di Un po' di enfasi No? Su quello che è L'universo DOT E quindi sicuramente Su una Una lotta Ok Le parachain Però effettivamente È sempre un'asta No? Quindi abbiamo diverse possibilità Però ti dico Io sinceramente Nel lungo periodo DOT Lo vedo bene Perché secondo me È una tokenomics Tale per far apprezzare Il prezzo Del token I token devono essere Misi tutti in stake I validatori cresceranno Sempre di più Quindi secondo me È solo un ecosistema Che può fare bene Però è ovvio Fa parte anche del gioco Del mercato Quindi dobbiamo sempre Immaginare che comunque Il mercato supporti Polkadot Così come supporti Tutto che cresca L'ecosistema Perché deve crescere L'ecosistema Ricordatevi sempre questo E Su Polso Ho fatto un take profit Del 25% Ripagando l'investimento Con la restante parte Seguo le move Proseguo con take profit Attualmente ho degli stop A scalare sotto il prezzo In base di tracciamento potenziale Adesso siete tutti fissati Con Polka Su Polka Starter Sembra la rivelazione Sto Polka Starter Ragazzi Il problema di Polka Starter Secondo me È solo uno Che se per caso Si inverte un attimo Il trend sulle alz Visto che Polka Starter Fa solamente Praticamente Delle specie di ICO Ok Che vi dà queste coin Un po' prima Ok Cioè se si inverte il trend Là Cioè Polka Starter È il primo a essere venduto Non serve a nulla Serve per accedere A queste private sale Ok Quindi Va bene Sta performando bene Perché sta performando bene Tutto il settore alz Però mi raccomando Io poi Personalmente Non lo seguo Neanche più di tanto Polka Starter Però Si Fai il tuo take profit Assolutamente Vettor Non lo conosco Proprio non so neanche cosa sia Cosa è dovuto Secondo te Il pump odierno di Rep Ci sono notizie Nemmeno So cosa sia Devo aggiornarmi un po' Sono un po' Del vecchio stile io Bitcoin Cash Ragazzi La mia idea è sempre Che Bitcoin Cash Sapete Io in Bitcoin Cash Ho qualcosa Perché Quando hanno fatto Il fork Di Bitcoin Ovviamente Sendo un fork Della catena Eh si Bitcoin Della catena principale Ok Vi arrivavano anche Bitcoin Cash Fondamentalmente Se avevate quell'indirizzo Perché ovviamente Forcando La catena di Bitcoin Tutta la storia precedente Rimane in vita No Quindi Però Bitcoin Cash Ragazzi Cioè A cosa vi serve Boh Secondo me non serve a nulla Ok Direi che anche il grafico Di prezzo È abbastanza chiaro Però Vi dico Io personalmente Non entrerei su Bitcoin Cash Manco morto Perché se devo investire Dei soldi Ci sono un sacco di progetti Che vanno molto più in voga Rispetto a Bitcoin Cash Sulla DeFi Eccetera Quindi assolutamente Ricordatevi sempre di investire Dove c'è il riflettore I puntati Allora Qual tempo vola Siamo già a 42 minuti C'è Emiliano Pensi che Band Abbia ritestato per l'esistenza Vabbè L'abbiamo già detto Riusciamo a vedere il grafico Unibitcoin Ringrazio E Ho un'USD Vorrei sapere la tua opinione in merito Dai guardiamoci Ah io non guardo i grafici con Bitcoin Perché preferisco guardarli così Se volete ne guardiamo anche con Bitcoin Però Diciamo che A me piace più guardarli con il dollar Però Nulla ci vieta di guardarli Anche Con Bitcoin Allora Vediamo un'Uni Io ho una watch list qua Per le dirette Lunghissima Perfetto Cioè Vi dico Questa è un'action corretta Cioè Allora È ovvio che Vedete Quando voi vedete un movimento A rialzo Con una fase di consolidazione Per poi ripartire Ok Queste sono le cose migliori Che potete vedere Perché Perché abbiamo Siamo saliti Siamo scesi Abbiamo ritestato le medie mobili a 12 La prima media mobile Stiamo ottenendo crociata rialzo A 12 A 26 La 50 sale Ok Perfetto Perfetto Ora stiamo andando nuovamente a consolidare Possiamo tranquillamente continuare Ovvio che un ritest di questi livelli qua A 20 dollari Sono più che normali Attenzione alle scedole A non farvi fregare L'unica cosa Che sto vedendo Un po' I volumi decrescenti Però Insomma Dopo aver fatto questi movimenti così forti È anche normale Che non ci sia Chissà che Che potenza Di fuoco Sui volumi Però Secondo me L'action è più che corretta Visto che me l'hai chiesto Guardiamocelo anche su bitcoin Se no poi mi dite che non me lo guardo su bitcoin Allora Vediamo un po' No Dove me l'ha messo Dove me l'ha messo Unibitcoin Ah ce l'avevo già Probabilmente No L'ho anche tolto Su bitcoin Eh Sì Vedete che comunque Potenzialmente La struttura è rialzista Anche su bitcoin Beh Era abbastanza Immaginarselo Abbiamo fatto una leg up Molto importante Adesso stiamo andando In una fase di consolidazione Non stiamo invariando il trend Quindi possiamo andare Tranquillamente In iRai Quello che non voglio Vedergli fare Questo 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 E questo Questo qua sarebbe un'inversione di trend Però attualmente Io vi dico Non sono il tipo che si fascia la testa Ok quindi Per il momento Vi direi Più che tranquillo Per come è messo Il Uni Quindi molto bene Secondo me Poi E ovvio Qui aveva fatto questa leg up Importantissima Perché parliamo di settembre Ancora con bitcoin A 10.000 dollari Però direi che ha recuperato Molto molto bene Dopo questa fase discendente Molto importante Quindi Bene 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 Analisi Reef Sceso molto per possibile Partner con Tron Eh la madonna Abbiamo fatto la partner con Tron E ci scende Reef No dai Vi prego Ma no Cioè secondo me Anche qua Il discorso è uno A parte che odio il grafico di Reef Perché quando Con sto candelone Inutile Allora Reef Non sta scendendo Cioè Cosa vi dovete aspettare Abbiamo fatto una move Rialzo incredibile Vi traccio il Fibonacci Classico Ma no dai Lo vedete a occhio Ok Cioè questa qua è una fase Un attimo di consolidazione Di consolidamento Guardiamo sull'orario Che forse magari Zoomiamo un po' meglio Cioè Ma niente Niente di che Cioè questo è un nome Che comunque mantiene Mantiene forza Ok Non avete nessuna inversione Il pattern è rialzista Ricordate Quando analizzate questi nomi Sempre fatevi delle analisi Molto semplici Più è semplice Più è facile Che sia così Ok Dove stiamo andando Possiamo tranquillamente Ora andare a ritestare Tranquillamente Gli 0 45 Non abbiamo nessun problema Se anche scendiamo un po' Abbassiamo un pochino La trend line Non succede Assolutamente nulla Ok Non succede Assolutamente nulla E la struttura Rimane rialzista Quindi Io vi dico ragazzi Su questi nomi qua Anzi Molto meglio Vederli un attimino Rallentare Perché Vederli fare Le sparate Come vi dico sempre Così Serve a nulla Perché facciamo così E poi facciamo così E quindi Io non vorrei Vederli fare così Vorrei vederli mantenersi E abbastanza potenti Ma anche perché Se fanno così Il problema è che Avete troppe entità in profitto Tanta gente che ha comprato alto Il prezzo va giù Crolla La gente si impanica Vende Tanta gente rimane bloccata Nel settore Appena cresce vende E vi tira giù il prezzo Quindi È anche meglio per tutti Ciao Cosa ne pensi di Nano Come investimento a lungo termine Ma diciamo che non è un progetto Che seguo più di tanto Però se ti piace Assolutamente Ci può Ci può anche stare La salita dipende In divergenza con RSI Ricordatevi sempre Insomma A me non piace guardare troppo Queste divergenze Si trovano significatività Ma solitamente Su Terramente Devono esserci tanti volumi Per la divergenza Ricordatevi questo Ha maggior ragione Se Troviamo già difficoltà A fare analisi tecnica Su coin Che veramente hanno pochissimi volumi Figuratevi le divergenze Figuratevi le divergenze Alfa Ma Alfa ha avuto quel problema Ragazzi Della Dell'exploit Che hanno avuto Su uno smart contract E gli hanno fregato Non mi ricordo Quanti milioni di dollari Adesso li stanno tracciando Dovrebbero aver recuperato Gli IP Dovrebbero recuperare Anche sti soldi Si spera Non è un problema Dovuto tra Utente E E Alfa Ma tra Alfa E Cream Finance Però è ovvio che Si perde un po' di fiducia Sul protocollo Perché è normale Quando ci sono questi hack Si perde un po' Quella Quella Pampa Mental Che è Quella voglia di entrare Quella voglia di Difomo incredibile Quindi si rischiano Delle correzioni Anche profonde Speriamo risolvano presto E Buon momento Per entrare su Cake Ragazzi Cake è già abbastanza esteso Però Se credete nel progetto Io preferisco farmarli Cake Se proprio devo dirtela Polka PolkaCover Tante tante belle aspettative Su PolkaCover Poi effettivamente PolkaCover Se farmi Fate una vedere Adesso magari To the moon Ma Si Sicuramente Ha fatto Ha fatto meglio Il problema di PolkaCover È sempre questo Non ci sono exchange Non avete exchange Su Polka Avete Bilaxi E oggi Usare Uniswap Boh Cioè sinceramente Beh Il settore è corretto Ok L'insurance Eccetera Va benissimo Però vi dico Fondamentalmente È un buon progetto Io aspetterei Un po' più di listaggi E un po' più di volumi Sinceramente Per posizionarmi Su questi nomi qua Però Ci possono stare Ciao AP3 Non l'ho Non l'ho messo a fuoco Non so darmi una proiezione Di crescita Ma sono interessato Ad entrare Perché il prezzo Credo sia comunque buono Cosa ne dici Beh AP3 ragazzi Io ne ho sempre parlato bene Ma AP3 Devono sviluppare Devono continuare A fare le loro cose Stanno lavorando bene Il team Sta lavorando bene Secondo me I listaggi Potrebbero arrivare Anche importanti Ci abbiamo dentro Comunque Wobby Abbiamo KX Quindi Si Secondo me Può essere tutti Dei buoni livelli Però Vi dico Io do sempre Un'occhiata al mercato Se il mercato Non inverte Continuiamo a crescere Però se il mercato Dovesse avere un attimo Di respiro Bisognerà valutare Potremmo entrare Anche sicuramente Più cheap Quindi mi raccomando Sempre con testa Cosa ne pensi Di Ada Ma allora Vediamo un po' Ada 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 ragazzi Ho comprato a 3 centesimi Poi l'ho venduta Non parlatemi di Ada Vi prego No Allora Ada ragazzi Va benissimo Un bel progetto Io sinceramente L'avevo Ero uscito da Ada Per un motivo Perché sono lenti Lenti E quindi Ho detto Adesso Mamma mia Eravamo usciti con Cos'era Come si chiamava Gauguin Quella Dello Staking E dopo di che Abbiamo detto Oddio santo Adesso Per gli smart contract Passeranno altri due anni Allora ho detto Vabbè Avevo approfittato Dell'iPad Ero uscito Però Però vi dico Sta facendo molto bene Se me la trova Va bene Questo Ma scusatemi Io ho dei problemi Perché non mi apri Ah eccolo qui Però vedete Il movimento è sano È sano Perché adesso Stiamo andando a consolidare Un pochettino Più che più Che normale Più che normale Anche sul giornaliero Queste sono potenziali Tutte quante Potenziali bull flag Sono tutte potenziali Bull flag Che possono tranquillamente Rompere a rialza Le shadow Sono molto importanti Sulla parte bassa Questo significa Che sicuramente C'è tanta domanda In queste zone qui Se il mercato tiene Tranquillamente Ce la possiamo trovare Sopra il dollaro Senza troppi problemi Quindi questa è la mia idea Preferisci DOS ad AP3? Sì Ognuno ha le sue preferenze Vettor Non lo conosco YFI Yearfinals Bene La Dominance L'avevamo già vista Per chi si è collegato dopo Un'occhiatina veloce Dominance comunque Che si mantiene debole Sotto la 200 Touch della 200 E correzione Quindi per il momento Nessun problema Se vediamo Inversione di trend Andare alzo Allora faremo un'ulteriore analisi Ma per questo Faccio contenuti Time sensitive Perché non ho Sfera di cristallo Quindi quando vedo Delle correzioni Dei movimenti Contrari Allora è giusto Aggiornarvi E fare delle Delle Riflessioni Lumengrid89 Grazie mille Per l'abbonamento Incredibile Grazie 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 Davvero per il supporto Per chi non lo sapesse È possibile Iscriversi gratis Con Amazon Prime Se avete Amazon Prime Basta solamente Abbinare il vostro account Switch su Amazon Prime Prime Gaming Si chiama E potete abbonarvi Gratuitamente Con quale cifre Si può diventare Autonomi Con i propri risparmi Intendo Guadagnare 30 cappanetti All'anno Pagando regolarmente L'imposta Non ho capito La domanda Con quale Cifra Si può diventare Autonomi Beh Cioè Se intendi Di investimento Qualsiasi investimento Fai Ci puoi pagare Le tasse Qua c'è il discorso De 51k Però In generale Autonomi Poi dipende Anche dal tuo stile Di vita Tutto quanto Prima volta su Twitch Fino a che ora dura La live Ma solitamente Faccio un'oretta Quindi Ancora Dai una decina Di minuti massimo Come lo vedi Di un ulteriore Ingresso Di dot Oggi Visto il dump Di oggi Beh Tutte le potenziali Appunto Dip Su dot Possono essere Dei buoni Entry point Ok Quindi Potenzialmente La struttura Di dot È rialzista Ma Sfido qualcuno A dirmi che non è rialzista Questa struttura Potenzialmente Adesso Si consolida Un attimino Sono tutte Dele buoni Entry point Per delle rotture Rialz Quindi Bene così Sì Quindi Se Credi in dot E stai aspettando Un'occasione Sicuramente Meglio comprarlo Qua Che comprarlo Qua Però Come sempre Io entrerei a scadare Perché Una parte di capitale Entrerei qui Se scende ancora Aumenterei Se scende ancora Aumenterei Insomma Andrei a mediare Una prezzo D'ingresso D'ingresso Ovviamente Cosa pensi Posso tornare Al 30-40% Come 2017 Direi di no Secondo me La dominazione Non tornerà mai A quei livelli A quei livelli C'è andata Perché Ancora bitcoin Non era un asset Finanziario Più di tanto Ma era totalmente Una cosa molto Era un po' tutto Ovviamente Come ancora oggi Tanto speculativo Quindi No Non credo Se bitcoin Scende del 25% Vedi come te Le buca Con le resistenze Grafico Verso l'alto Sono in ste volcone In quel caso Eh sì Però Sicuramente meglio Meglio Con la lateralizzazione Almeno abbiamo Qualcosina in più Soprattutto su progetti Un po' più Un po' più Grossi Ad abbiamo parlato Vivo NX% Speriamo Faccia percento Così Brindiamo in diretta Facciamo una live Apposta per il percento Di Se facciamo una live Col brindisi A ONX Finance Ciao grandissimo Nel giro delle cripto Da qualche settimana Volevo chiederti un consiglio Sono entrato sui gold A 60 dollari Schizzato a 2,10 Ora va sempre più giù Ora si stava a 160 Cosa mi consigli di fare? Beh abbiamo visto prima La mia idea sui gold Quindi nulla di Di pazzesco Ma è per questo che vi dico Che è meglio entrare Quando le cose scendono Perché se no Ci si spaventano sempre E quindi poi si fanno Errore Errori Ripple Ragazzi Per me è una coin Totalmente manipolata Quindi non ve la Cioè Non ve la faccio neanche vedere Ma Volete vedere Ripple? Cioè Tempo un po' perso Però Se volete Ripple Vi faccio vedere Ripple Ripple Cioè Boh Commentatemela voi Nel senso È una coin Che È sotto È sotto Inchiesta Dalla SEC Muore Vi sale All'infinito Vi dump All'infinito Vi risale adesso Vi ridampa Cioè Queste non sono coin Che a me piace tradare Perché Sono coin Che hanno degli andamenti Così imprevisti E così manipolati Che può succedere Sempre un po' di tutto Su queste coin qua Quindi Meglio di no Ma per prendere NX Uniswap Non si va a perdere Troppo in fee Dipende Quanti Capitale Usi Cioè È sempre quello Il discorso Se entri con 15k Non te ne frega nulla Magari Però se entri con 200 dollari Non entrarci Purtroppo è così Ragazzi In questo momento Storico Soprattutto Che fine farà Dogecoin? Secondo me Dogecoin È una maniera Simpatica Continuerà a star lì A fare le sue cose Però poi fondamentalmente Cosa ne pensi Di Uni? Abbiamo parlato Ottimo Cioè Non mi piace Il discorso Che era tanto Legato al farming Però poi comunque Si è stabilizzata Anche quella cosa lì È un token Che ovviamente Si basa tanto Di governance Sui DEX Quindi Più i DEX Andranno bene Più Uni Avrà modo Di esprimersi Quindi Per il momento Bene anche Uni Non per tracking Ma per Convisione Cassettista I 5 progetti Che ti piacciono Di più Considerando Il post DeFi Eccetera Eccetera Grazie mille I progetti Che mi piacciono Di più Per il post DeFi Cioè Quelli Di cui Parliamo Se vuoi Star tranquillo Bitcoin Ethereum Ti direi Anche Polkadot Tra le prime BNB Per quanto riguarda I checks Ottima coin E poi ovviamente Lì vai su una parte Più speculativa Che preferisci te Vediamo ancora Qualche domandina Perché poi voglio andare Vediamo se Se trovo qualcosa Che qualcuno Non ha risposto Quando parte Akala Non lo sappiamo Ancora Quindi mi raccomando Non fate nulla Non comprate Akala Perché non esiste Ancora il token Quindi fermi C'è meglio inizi A seguirti anche qui E non solo su YouTube Perfetto Grazie La tassazione Vediamo Se riusciamo A organizzare qualcosa Con un Buon commercialista Vediamo Vediamo Se ce la facciamo E Cosa ne pensi Di Vector Token Io ragazzi Sto Vector Token Me l'avete scritto 40 volte Non so cosa sia Vediamo Ah ecco perché Me l'avete parlato Siamo passati da Cos'è Da 0.01 A 0. Sì Però ragazzi C'è Io sta roba qui Sinceramente È l'ultimo Delle cose Su cui andrei a investire Vi dico la verità Poi Vi dico Va bene Va bene Però Personalmente Per me Questo è tutto Gambling Non prevedete I movimenti così Queste sono cose Buttate così Se vi va bene Bene La parola Non c'è Tre la monetina Secondo me vi divertite Di più A giocarli Al casino Però Boh Per me Sono movimenti Senza senso Quindi Boh Ma sono così Magari sono io Un po' Un po' Troppo Acido Nei confronti Di queste coin Vediamo 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 Quanto bisogna investire In crypto Per fare 30.000 euro Netti All'anno Senza rischiare Tanto Oddio ragazzi Queste sono domande Che qui so rispondermi 30.000 euro Senza fare Eh se vuoi Fai i conti Ti prendi Non lo so 30% Ti prendi Non lo so Due 300.000 euro Te li metti In Nei checks Nei decks E ti fanno Una rendita In stable coin Del 12% Ti fai i conti Ma ragazzi Sto scherzando Ovviamente Vediamo un po' Vediamo un po' Grazie Okami Per l'abbonamento Prime Come piazzare bene Gli stop loss Vediamo un po' Stavo cercando di fare Ok Ah ok 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 Vittoria Rewards Dello staking Di VET Tipo gas Per Nio Ah ok Grazie Legger Grazie No non lo sapevo Ragazzi Scusatemi Ma Non so Sul pezzo Su 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 VET Fondamentalmente Quindi Quindi però Ragazzi Cioè Secondo me Comunque Se valutiamo Il movimento Della coin È totalmente Insane Quindi Se mi chiedete Dove entrare Qua non si entra Cioè Si sta lì Si guarda da fuori È tutto molto bello E Beh allora Vediamo quello Dello stop loss Dai E poi vi saluto Beh allora Il concetto è Dello stop loss Dai lo vogliamo fare Su Facciamolo su Secondo me è un grafico Dai su dot È più comodo Anzi Voglio farvi Qualcosa di semplice Perché Vorrei Si dai Allora Facciamo Facciamo Su ethereum Guardiamolo Sull'orario Ok Allora La struttura Rialzista Ok Perfetto Quindi voi Comunque avete Dei minimi Che vedete Sono crescenti Ok Minimi sono crescenti Quindi Ipoteticamente Dove potete entrare È su questi minimi Quindi potenzialmente Un'analisi Che potete andare a fare È dire Perfetto Io ho questa trendline Ok Ora ovviamente Non è che dovete Prenderla alla lettera Non è che dovete Prenderla alla lettera Però Vediamo se la facciamo Ok Però Può esservi un riferimento Ok Allora voi andate a fare Un minimo Ok Quindi potenzialmente Potete posizionarvi Ti mettete qui Sui 1800 dollari Ok Con una posizione Potenzialmente long Perché pensate Che quello che voglia fare Il prezzo È andare qua E recuperare Ok Benissimo Lo stop loss Dove lo andate a mettere Lo andate a mettere Sotto l'invalidazione Di una struttura Rialzista Quindi se lo ragionate Sull'orario Potete dire Io metto uno stop loss Sotto i Sui 1760 Volete stare un po' più larghi Un po' più conservativi 1730 Volete proprio Pensare di invalidare Completamente Potete stare sotto Quest'ultimo minimo Qui di questa struttura 1680 Potenzialmente Ok Andate a calcolarvi Quella che è la potenziale Perdita che andate Ad avere su questa Su questa coin Ok Quello dipende da voi Dal vostro grado di rischio Oppure potete dire Ok Faccio una prima entrata qua Faccio una seconda entrata qua Faccio una terza entrata qua Se perdo questo 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 Punto qui Allora vado in stop loss E vado a vendere la posizione Potete anche ragionare così Però è così che più o meno Andate a lavorare Poi adesso ve lo sto facendo Un po' a caso Solo per farvi vedere Un esempio Ok Però è ovvio che poi lì Siete voi a capire Esattamente il momento giusto Dentro di giusta Dipende anche L'orizzonte temporale Che vi date Per la vostra Trade Io ragazzi Mi fermo qua Siete sedattati Veramente tantissimi Questa sera Quindi vi ringrazio Vi auguro Una buona serata Ok Fate i bravi Io questa live La rimetto su youtube Quindi mi raccomando Andate su youtube E mettete anche un bel like Ok Così mi aiutate tanto Con l'algoritmo E noi ci vediamo In un prossimo video Ciao Ciao